edat production isole sparse Renato De Paoli sempre tratto da zughi popolari veneziani o giuocchi popolari veneziani din den allora si ciappa il buteletto sotto il brazzo sotto le ascelle dice facendolo camminare e se canta fa insegnare a camminare e la canta la fa così è intitolato din den o don din don campanon le campane de bovolon le suonava tanto forte le buttava zo le porte le porte iera de ferro volta la carta aghe un sgabelo sto sgabelo pende brocche d'oro volta la carta aghe un bucintoro sto bucintoro pende galiotti oltre la carta aghe un bucintoro sti bucintoro in te la pinata oltre la carta aghe una gata stagata fava i gatei oltre la carta aghe due osei sti due osei montava insieme oltre la carta aghe due che sena due che sena senava de boh oltre la carta aghe un capon sto capon non ho già racconto oltre la carta aghe un posto sto sto fa seo storia oltre la carta e la storia le finia ringraziamo l'università di toronto stati uniti che ha conservato questa memoria veneta e ringraziamo mirel vezzoni dell'università della biblioteca di nizza che la manda a questo meraviglioso testo e grazie a youtube per averne dato la possibilità di rinovellare i zughi popolari veneziani italianizzati in giocchi popolari veneziani grazie se ma vi ascoltà alla prossima Renato De Paoli isole sparse e dal production grazie grazie